La marca Alberti ha votato Bragantini Paolo ha votato Forza Simone Valente, Brugnerotto e poi chiudiamo Beh, Pedraroli, da dietro Tripiedi Arti, Distaso, Altieri Chiusa la votazione La Camera respinge Passiamo ora all'emendamento 3.4 dell'Ai Per il quale c'è un invito a ritiro Prego, onorevole dell'Ai Sì, grazie Presidente Questo amendamento aveva il senso, come l'8.16 Di evitare un contrasto palese con il comma 2 articolo 11 Introdotto dalla Commissione Il quale appunto prevede norme di salvaguardia Degli statuti Delle province autonome di Trento e Bolzano Tuttavia Questo comma che io proponevo di abrogare Prevede specifici obblighi Per le province autonome in materie che lo statuto citato Chiaramente affida a competenze esclusive delle province Prendo atto del parere, a mio modo di vedere, non ragionevole Contrario da parte del Governo Ritiro gli emendamenti, credo se ne dovrà riparlare in Senato E temo se del caso anche alla Corte Costituzionale Ma ovviamente Questo mi impedisce di votare a favore dell'articolo Quindi ha ritirato l'emendamento Onorevole Dell'Ai Ho capito bene, grazie Allora, 3.6 Zaratti Identico 3.7 De Rosa Se nessuno chiede di intervenire Metto in votazione Con il parere contrario di Commissione e Governo Favorevole dei relatori di minoranza E' aperta la votazione Ci siamo? Chi è che non c'è? Romele Buonafede E' chiusa la votazione